Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla FIPILI per lavori, possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. In direzione Firenze è chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma. Restano validi i percorsi alternativi su SB12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. La viabilità cittadina oggi torna alla Firenze Marathon con partenza in Piazza Duomo e percorso sui viali. Attenzione ai provvedimenti, alla circolazione e alle deviazioni per il trasporto pubblico. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!